buongiorno bentornati in un nuovo video come vedete qui sono nella mia email e volevo farvi vedere che sono stata scelta da Desideri Magazine ecco qui il logo per provare un set di prodotti composto da shampoo e balsamo della linea Herbal Essence comunque dopo vi faccio vedere ovviamente prima ho compilato un sondaggio poi sono stata scelta mi è arrivata l'email appunto che si congratulavano con me per essere stata scelta mi è arrivato il pacchetto poi avevo girato la parte di video che vedrete dopo mi è arrivata questa email che vi sto facendo vedere e mi dice in pratica che nella mia regione non è più possibile consegnare buoni sconto che poi appunto si trovano nel set per il semplice motivo che purtroppo nella mia regione questo prodotto sarà disponibile a partire da primavera del 2020 quindi la scadenza dei buoni è fine anno quindi non ho potuto consegnarli comunque posso provare il prodotto mandare le foto scrivere recensioni eccetera qui sono sul sito appunto di Desideri Magazine faccio un attimo il login ed ecco che appunto adesso sono loggata è un sito che vi ho già fatto vedere per altre promo e anche comunque altri progetti di prova prodotto in passato tipo Lenore, Dash, Herbal Essence o Eden Shoulders ad esempio vi sto facendo rivedere velocemente il sito e adesso andiamo su Club dei Desideri qui vedete appunto comunque la pagina dedicata al progetto ed eccola qua dove abbiamo Info Progetto poi Blog e Galleria qui è Info dove ci sono tutte le notizie gli estratti le notizie le avvertenze di quando sto per finire il progetto insomma ci sono varie cose da seguire poi abbiamo il blog del progetto sì qui ci sono le notizie e poi la Galleria Foto andando su Area Personale appunto si ha la pagina di ogni ambassador adesso vediamo che si apre e ci sono diverse sezioni noi siamo già in le testate di attività e altre cose qui siamo su Herbal Essence dove si possono mettere i sondaggi per rispondere ai sondaggi mettere i link appunto delle varie recensioni le foto eccetera e quindi bisogna completare tutte queste missioni adesso invece passiamo all'apertura del pacchetto ed ecco che è arrivato il momento di aprire il pacchettino eccolo qui e qui c'è scritto Fragile Handle Weave Care perché appunto sono dei prodotti dentro quindi si potrebbero rompere andando ad aprire troviamo questo qui che è lo shampoo vediamo se riesco a farlo vedere meglio ok allora dice che è all'olio di argan che ripara i capelli danneggiati con veri estratti botanici di questo giardino che si chiama Kieu non so come si dice 90% di origine naturale con 0% di coloranti paraffina e non ha bottiglia in BPA c'è il codice QR così potete andare sul sito qui c'è scritto campione gratuito vietata la vendita perché purtroppo ho visto su molti siti internet che ho visto su sconto maggio appunto ci sono molte persone che ricevono questi prodotti anche buoni sconto e poi li vendono mi raccomando non lo fate perché è illegale oltre che moralmente sbagliato è illegale state infrangendo la legge quindi non comprateli ma non vendeteli neanche detta questa parentesi qui vedete che c'è scritto Project & Gamble fatto in Germania sono 250 ml allora gli ingredienti sono questi ve li lascio qualche secondo magari metto anche una foto e qui ci sono le istruzioni dice applica lo shampoo sui capelli bagnati massaggio per creare una schiuma e poi risciacqua abbondantemente ovviamente qui ripete senza coloranti senza paraffina bottiglia senza fettelati e BPA e sopra qui c'è la descrizione e dice crediamo nel potere della natura per la bellezza per questo abbiamo collaborato con i giardini botanici reali di Kew o Kew non so come si dice una delle principali autorità globali per le piante per certificare i nostri veri estratti botanici Herbal Essence è uno shampoo con 90% di ingredienti di origine naturale con ingredienti naturali sostenibili ed un attivo antiossidante che aiuta a purificare e proteggere i capelli allora io adesso guardo cioè sento più che altro il profumo profumo abbastanza dolce sembra che ci sia quasi della vaniglia ma potrei anche sbagliarmi ah c'è l'argan ovviamente poi c'è anche l'aloe vedo e aromi vabbè insomma il profumo è buono mettiamo a fuoco c'è anche il balsamo sempre lo stesso principio quindi sempre olio di argan sempre senza sostanze nocivi con sostanze di origine naturali la stessa cosa l'unica cosa che questo è 200 ml ecco vi metto anche qui gli ingredienti qualche secondo così potete vederli poi dice applica il balsamo qui aspettate ecco applica il balsamo generosamente sui capelli bagnati dalle radici alle punte lascia assorbire e poi risciacqua dice inoltre che ripara i danni dallo styling e dice che la questione degli ingredienti naturali aspettate cerco di farvelo vedere ecco magari poi ingrandisco quando faccio l'editing qua dice ripara i danni dallo styling acqua purificata e ingredienti di origine naturale con limitate manipolazioni eccole qua poi abbiamo dei buoni sconto anche questo vale il principio che non bisogna venderli e non li dovete neanche comprare soprattutto venderli comunque questi qui sono dei buoni sconto con scadenza 31 dicembre 2019 da 1 euro e 50 valido su shampoo balsamo e maschera appunto della linea herbal essence valido solamente in acqua e sapone e la saponeria quindi se andate per dire al liper non potete usarlo allora io vorrei vedere copro il codice a barre perché se no allora allora o shampoo o balsamo o maschera quindi su un solo di questi prodotti potete scegliere quello che volete quindi non è che dovete comprarli per forza tutte e tre vabbè poi sono le istruzioni per i negozianti ma non ci interessano saranno una ventina credo comunque nel manuale del progetto c'è scritto poi abbiamo questo ti diamo il benvenuto a questo progetto pronto a prendere 10 nel tuo progetto herbal essence allora informati bene leggendo la guida del progetto e visitando il blog sul sito club dei desideri prova lo shampoo e il balsamo e il bar essence che hai ricevuto scatta foto creative dei tuoi prodotti fatti ispirare dalla natura usa un fondo bianco naturale e usa la fantasia per fare foto originali pubblica su instagram con l'hashtag herbal essence ambassador perché appunto le persone che sono diciamo destinati a provare i prodotti vengono chiamati ambassador poi dice parla ai tuoi amici di tutta la linea herbal essence dei suoi ingredienti con veri estratti botanici e del profumo fantastico dei suoi prodotti aiuta herbal essence a migliorare i suoi prodotti rispondendo alle domande del sondaggio finale che riceverai per email poi ogni persona ha un contatto diciamo fidato quindi se ha qualcosa da chiedere contatta questa persona nel mio caso è manfru e qui c'è la sua email se appunto c'è da da sapere qualcosa da chiedere qualcosa qua dice di appendolo in un bagno nel posto visibile per sapere cosa bisogna fare e qui dice diciamo le parole chiave di ogni campagna di questa ma comunque di ogni campagna trasparenza ogni volta che parli di herbal essence con i tuoi amici conoscenti è molto importante far sapere come l'hai scoperto quindi dire che sono iscritta a desideri magazine che mi hanno mi sono candidata mi hanno accettato insomma queste cose qui naturalezza quindi quando fai del passaparola su herbal essence si te stesso semplicemente esprimi e condividi la tua opinione con parole tue e senza fare discorsi commerciali responsabilità ci aspettiamo un'attitudine responsabile da parte tua quando partecipi a club dei desideri onestà parlare di ciò che ci piace fa parte della nostra vita quotidiana esprimi la tua opinione con tutta sincerità ascolto durante tutto il progetto ti consigliamo di ascoltare e rispettare le opinioni dei tuoi amici e conoscenti senza cercare di imporre la tua comunicazione condividi liberamente con noi le tue impressioni sia positive che negative divertimento la cosa più importante di questo progetto è divertirsi appoggio siamo a tua disposizione per risolvere dubbi invece domande e suggerimenti poi abbiamo infine il manuale del progetto scopri i segreti della natura con il nuovo Herbal Essence quindi blog di progetto c'è l'indirizzo il tuo contatto che è appunto quello che vi ho fatto vedere prima allora qua dice pronta per scoprire il potere positivo della natura e qui c'è appunto il ricapitolo di quello che c'è all'interno del pacchetto quindi la lettera di benvenuto i 20 buoni sconti da 1,50 da regalare un balsamo e uno shampoo qui invece ok le emissioni prova lo shampoo e il balsamo parla nei tuoi amici e racconta loro della linea Herbal Essence e dei suoi ingredienti pubblica le foto sui social che siano creative usando l'hashtag Herbal Essence Ambassador dice distribuisci 20 buoni sconti ai tuoi amici uno per ogni amico e assicurati che lo usino in uno dei punti vendita acqua sapone e la saponeria per comprare un prodotto della linea Herbal Essence potete avere l'opportunità di ricevere ognuno un buono spesa da 20 euro da spendere in tutti i punti vendita acqua sapone e la saponaria la saponeria scusate dietro c'è tutta la storia degli estratti botanici vi metto una foto dice che tipi di estratti fanno da cosa deriva insomma tutto quanto consigli per una foto perfetta un bel sorriso sicurati sempre che sia di giorno con luce sorale ma non contro il sole che il prodotto sia al centro e sia a fuoco scegli delle colazioni ispirate alla natura qui abbiamo le linee linee allora linea latte di cocco per capelli secchi che diventeranno poi lisci forti e setosi quindi c'è noci di cocco bouquet fiori bianchi e vaniglia poi c'è la linea olio di moringa che doma i capelli crespi li lascia morbidi definiti fino alle punte succosa arancia bouquet floreale bianco e acqua di cocco poi abbiamo la linea fragola bianca e menta dolce questa è per il volume fragola gelsomino menta fresca note di agrumi spezie e vaniglia questo deve essere una bomba come profumo poi abbiamo di qui in alto passiflora e latte di riso per le doppie punte con note di agrumi frutto della passione fiole di arancio poi quella che è capitata a me che è la linea di olio di argan di stricante per riparare i capelli danneggiati lasciandoli morbidi e lisci quindi note di agrumi spezie e vaniglia quindi si vedete che della vaniglia c'era e poi l'ultima è linea pompelmo bianco e menta menta di mosa per i capelli fragili e fini li mantiene vaporosi dalle radici e le punte con pompelmo bianco menta di mosa e agrumi menta fresca e pesca vellutata ripeto vi metterò delle foto perché almeno si vede meglio e qui infine abbiamo questo concorso appunto per vincere 20 euro da acqua e sapone appunto la saponeria quindi bisogna distribuire i buoni sconto comunicare il codice personale che hai ricevuto per email a me devo ancora arrivare mi sa quindi ricorda tu e i tuoi amici formate un team convinci tutti a utilizzare il buono sconto da acqua e sapone o saponeria per acquistare uno dei prodotti herbal essence andate sul sito vinciconherbal.it caricate una foto dello scontrino e il codice personale poi dice attenzione sullo scontrino deve risultare che il prodotto è di herbal essence è stato acquistato in una di queste due insegne indicate quindi deve essere uno scontrino parlante sostanzialmente fai vincere il tuo team il team che carica più scontrini avrà la possibilità di vincere un buono spesa da 20 euro per ogni membro del team utilizzabile d'acqua e sapone e la saponeria vincita di un massimo diventa un buono spesa totale per team regolamento completo su vinciconherbal.it veniamo alla fase interessante adesso vi faccio vedere la consistenza dello shampoo e come vedete è abbastanza viscosa diciamo e mucillaginosa non so come come dire vedete il profumo è molto molto buono ha questa colorazione tendente al perlato questa qui è la schiuma che fa quindi sui capelli non vi aspettate una schiuma esagerata ma questo è dimostrato dal fatto che i tensi attivi non sono molto forti quindi fa schiuma ma ne fa poca ma nonostante questo pulisce bene qua invece vediamo la consistenza del balsamo questa è una consistenza decisamente diversa è più cremosa sembra quasi una crema da giorno e non ha quell'effetto mucillaggine qua vi sto facendo vedere dopo che ho passato il balsamo ma non li ho ancora pettinati qua appunto sto tentando di di pettinarli perché ho i capelli ricci al naturale quindi adesso gli sto dando una spazzolata prima di passare poi alla piega e ho fatto due prove una volta ho solo semplicemente asciugato i capelli e li stavo asciugando con questa spazzola di tiger e basta la volta dopo invece ho utilizzato anche la piastra qua vi sto facendo vedere che i miei capelli sono proprio ricci tutte e due le volte sono venuti benissimo anche senza piastra ho avuto un risultato molto buono qui appunto ho messo le immagini un po' velocizzate perché sennò diventa noioso e vi sto facendo vedere che li sto facendo semplicemente a testa in giù niente più niente meno e poi voi se volete potete fare anche ciocca per ciocca assolutamente non c'è problema qua sono un po' più avanti nella fase di asciugatura e come vedete i capelli sono lisci lo so è buio scusate ma era una giornata uggiosa e oddio qua è quasi un mese che piove tutti i giorni quindi non ho trovato giorni migliori e qui già al tatto i capelli si sentono corposi e lisci vi dico io i capelli ricci quindi se funziona su di me direi che funziona sulla maggior parte delle persone qui invece sto passando alla fase piastra se vi può interessare la piastra è una coriolis quella che può andare anche a vapore qui non sto utilizzando la funzione vapore però si può usare qui ho tentato di fare una foto e qui invece il video che è la parte che è venuta meglio poi ce n'è un altro pezzettino dopo ma come vedete io ho anche i capelli colorati quindi i capelli sono lucenti morbidi vaporosi un bel risultato qua vi sto facendo vedere che qui è passata una settimana perché sono stata a casa con la febbre una settimana quindi i capelli non li ho lavati e nonostante ciò si vede che sono sporchi per carità però comunque poteva essere peggiore la cosa e qui adesso partono un po' di fottine con e senza luce ripeto c'era una luce veramente orrenda questo è un tentativo di foto artistica e niente questa è l'ultima in definitiva ho trovato che il prodotto sia molto buono soprattutto se utilizzate la combo c'è anche la maschera in realtà quindi se usate tutte e tre sicuramente avrete un risultato migliore per il mio caso mi sono trovata molto bene avete visto i capelli ricci colorati sottili però con la cute tendente al grasso ma allo stesso tempo delicata cioè io con alcuni tipi di shampoo io ho dei problemi di irritazione appunto cutanea sul cuoio capelluto con questo non mi è successo i capelli sono rimasti puliti a lungo anche tirandoli su la consistenza mi piace anche se forse nello shampoo avrei preferito una consistenza leggermente più liquida tipo il balsamo ma è una scelta mia personale per quanto riguarda il profumo è veramente buonissimo anzi io forse lo farei ancora più forte di profumo ma è sempre una cosa mia personale e il prezzo sinceramente non lo so perché appunto avendo questa cosa del fatto che in Piemonte non c'è non vi so dire vi posso dire però che avevo provato dei prodotti Herbal Essence un bel po' di anni fa ma sinceramente non mi erano piaciuti e quindi quando ho avuto la possibilità di provare questi sono stata molto curiosa questi mi piacciono questo è l'Argan che ho provato io ve lo consiglio le altre linee non lo so perché non le ho provate però quando usciranno sicuramente le proverò perché sono rimasta molto soddisfatta e appunto l'unico neo è questa cosa della consistenza che mi ha un po' lasciato così però è una cosa mia appunto poi magari c'è gente che piace e niente ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se anche voi l'avete provato grazie a tutti